Buongiorno, avrai bisogno di due biglietti per la metro. Hai dovuto aspettare, ma alla fine ce l'abbiamo fatta, eh? Pensa, se adesso arriviamo là e ci hanno rubato la cappella, si stima. Mamma, perché le rovine si chiamano rovine? Perché sono rovinate? Sì, amore. Lea, bella tizia! Stiamo qua una settimana, va bene? Francesco, ti prego, cerca di capire, è una cosa molto importante. Più importante di me. Francesco! Maria! E questa è la strada per i vinciti ai Vaticani? Grazie! Ha visto due bambini? Una volante sta fissa qua e poi ci sono tutte le altre in giro per la città, soprattutto dal percorso dalla stazione a Iman. Sono 35 anni e sto in giro per Roma. Ma sai quanti bambini ho ritrovato? Ma voi siete da soli? Ciao! No, no, siamo abituati. E la vostra mamma dov'è? Questi bambini sono soli e pericoloso. State attenti! Che fa? Mi prendi in giro? No! Sì! No! Sì! No! Ma io li seguo. E dove vai? Che ci fate ancora da queste parti? Abbiamo avuto un imprevisto. Buona fortuna, eh! Grazie! 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 Grazie!